Fondazione di Piacenza e Vigevano, ecco altri tre volti per il Consiglio Generale. Le 64 associazioni di volontariato chiamate a eleggere i propri rappresentanti hanno scelto Lucia Favari, Adriano Dotti e Annalisa Fiorani. I loro nomi vanno ad aggiungersi ai sei già certi di fare parte del Parlamentino di Via Sant'Eufemia. La giunta della Camera di Commercio ha indicato Pierluigi Scrocchi, Alessandra Trampellini e Sergio Giglio, considerato uno dei grandi favoriti alla Presidenza. I 47 sindaci del territorio hanno invece scelto Walter Alberici, Claudio Bassanetti e Renato Zurla. A marzo scade il mandato degli organismi della Fondazione. Per l'associazione del Presidente Giacomo Marazzi sembra ormai una corsa a due tra lo stesso Giglio e Francesco Scaravaggi, che dovrebbe essere indicato nei prossimi giorni dal CEIS La Ricerca. Per il momento le votazioni sembra sorridere al primo, che può contare su almeno sette sostenitori su nove eletti.